E' proprio vero che in momenti di difficoltà le persone si ingegnano a trovare qualsiasi alternativa piuttosto che morire di fame. E la strada più veloce per fare soldi è senz'altro quella della droga. Così capita che un insospettabile perito elettronico si trasformi in un coltivatore di marijuana. E' successo a Pannaconi una frazione del comune di Cessaniti dove i carabinieri della compagnia di Vibo Valencia hanno arrestato Antonino Barbieri per l'appunto perito elettronico di 57 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, recettazione e detenzione illegale di armi e monuzionamento da guerra. In effetti durante un servizio straordinario di controllo del territorio i militari dell'arma nel garage di Barbieri hanno trovato un macchinario che serviva al confezionamento sottovuoto della sostanza stupefacente. Quattro sacchetti di plastica sottovuoto contenenti circa 200 grammi di droga già pronto per la vendita e una bilancia elettronica di precisione. Inoltre continuando le perquisizioni sul retro della casa in una serra sono state trovate due grosse piante di cannabis preparate per l'essicazione e altri rami già pronti per essere desfogliati e divisi in bustine di droga. Ma non è finita qua, in una stanza di vita ripostiglio sono state anche trovate una carabina Mauser modello 98 con matricola brasa, 21 cartucce calibro 8 e una baionetta in dotazione del corpo dei Maris degli Stati Uniti d'America.